Grazie a tutti Con cosa? Qui siamo nel backstage dello spettacolo Cloni quasi tagli e quali siamo in presenza di? Alicia Keys Ciao Alicia nella persona di? Francesca Patti da? Da Brindisi Allora Francesca vediamo intanto stanno cosa stanno mettendo proviamo a sentire un attimo Valerio cosa stai mettendo Valerio? Guarda è un fermacapelli diciamo una retina Diciamo è un tumore per mantenere più aderita alla parrucca per quanto riguarda gli stimenti la parrucca andata Allora gesto scaramantico lo facciamo vedere in anteprima ai nostri amici telespettatori dai Merda 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 Con? Con 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 gesto? Merda 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 dal mare non c'è Svalutation Svalutation Senta voglia di vivere e dolce venere direi me come quando fuori pioveva e tu mi domandavi Mentre il mondo cade a pezzi io confongo nuovi spazi e desideri che appartencono anche a te si io voglio per me le tue parete non sono un segno di me non ti merito più tu 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 ti 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 You hate to go on the morning, baby One more day, one more day Sembra quasi un mare nema Grazie a tutti. 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 Buona vita a tutti. Ciao. Grazie a tutti.